È il momento, Tartarughe Ninja. Dovete eliminare Miyamoto Usagi. Usagi, no! Che cosa? Jay, liberali subito dal tuo potere, essere malvagio. Oh, no! Neanche la tua grandissima forza può spezzare questa catena stregata, ragazzo d'oro. Resisti, Kintaro, ora farò... Tu non puoi fare proprio niente. Ogni cosa è andata esattamente secondo la mia volontà. Il mio piano prevedeva che tu e quelle tartarughe insegnaste a Kintaro l'umiltà, la compassione e, infine, il coraggio. Così si sarebbero liberati i suoi poteri. Lo avete inconsciamente trasformato nel tramite perfetto che serviva a me. Che serviva a te? Allora è tutto vero. Sì, io sono un essere immortale che ha viaggiato per non so quanti secoli di corpo in corpo. Ma quello del ragazzo d'oro sarà il più portentoso di tutti. Dei dorati della nuova alba, ascoltatemi! Per servirvi per l'eternità, concedetemi il potere di spostare la mia anima dentro a questo corpo! Per un attimo mi sono sentito davvero cattivo! Siamo stati investiti molto violentemente dalla forza spirituale di Kintaro! Ha eliminato il male che era dentro di noi! Sì, ma questo Jay non può ancora saperlo! Adesso fate tutti lo sguardo malvagio e seguite! Sì! Tenetelo fermo, miei discepoli, ma non voglio che decretiate ancora la sua fine! Lasciate che assista al momento in cui il vostro padrone acquisirà il potere! Tradimento! Sei un mostro! Sì! 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 Stavolta finisce qui, Usagi! Nessuna spada può fermarmi! Nessun mortale mi può ostacolare! Io riuscirò a vivere per sempre! No! Sensei, adesso va fermato! Ho appena realizzato una cosa davvero tremenda, che ci è andato piano con noi in questi anni! No! Tommi! 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 qualcuno colpisce micchi tranne me! Sensei, ora torna in te! Fermati! Adesso finiscilo! Non ti ricordi più chi sei? Guardati, sei Amato Yoshi! Donnie, Ruff, adesso! Ti prego! Padre, abbiamo bisogno di te! No! Non stare ad ascoltarlo, fratello mio! Il tuo posto adesso è qui con me! Devi sapere che il mio posto è... e resta accanto ai miei figli! Sensei! E questa è l'ultima volta che vedremo il conterattola! Sì, d'accordo, è il re dei topi, ma il prossimo nome lo do io! Sensei, sicuro di sentirti bene? Sì, ora sto benissimo! E solo grazie a te! Sei stato molto in gamba, ragazzo mio! Vedi, tu a un certo punto hai esitato! E basta un'esitazione per renderti vulnerabile! Anche noi siamo stati forti, eh? Sì, sono orgoglioso di tutti e quattro! Chi può dirlo? Magari un giorno diventeremo più bravi di te nelle arti marziali! Ricordati, figliolo, che tutto quello che sai te l'ho mostrato io! Ma io non ti ho mostrato tutto quello che so! È fantastico riaverti tra noi, Sensei! Questo suono non mi piace! Magari se lo ignoriamo sparisce! Qualcuno non lo sta ignorando! Allora, se Ponticello la resistenza... La porta dovrebbe aprirci! Nonni! Signor O'Neill! Salamandra armata con occhio a palla davanti a noi! Donatello l'ha chiamata Nutrializer! Hai dato un nome a qualcosa senza di me! Andiamo via da questa prigione! Tecnicamente è un centro di detenzione! La differenza è che... Non adesso, Donnie! Oh... Mi scusi, signor O'Neill! Evviva! Ora ne abbiamo due! Un piccolo aiuto! Preferisco un grande aiuto! Non è il momento di controllare le e-mail! Se i Krang avevano rinchiuso il Nutrializer è che chi non era loro amico! Sembra che gli piaccia distruggerli! A chi non piace? Nooo! 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 Devo entrare nel pannello di controllo! Aspetta! Raph, ci penso io! Oh, dici davvero? Ma certo! Nooo! 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 Per un pelo, eh? Dividiamoci! Donnie, porta il signor O'Neill fuori da qui! E venire! Oh, noo! Donnie! Oh, no! Oh! Eh! Ah! Un'altra caccia! Miki! Tranquilli, ho messo la cintura di sicurezza. Andiamo. Un'altra caccia!